E' stato deferito in stato di libertà perché sorpreso con l'ascisce nella canna della bicicletta. Un giovane nisce mese è stato denunciato per postesso di sostanza stupefacente, 5,7 grammi in tutto. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato all'interno della pompa della bicicletta quattro involucri di carta stagnola con all'interno dell'ascisce la sostanza stupefacente è stata sequestrata.